E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Clash Royale E come vedrete Facciamo diverse partite però non sull'arena Perché dopo scalo l'arena e voglio provare i deck un po' più Questo è il mio deck Non lo voglio rovinare E me ne faccio un altro di deck Che con Allora mi metto questo a posto del mini pack E questo a posto di questa Poi la zap a posto di questa Questo a posto di questo Miglioriamo Questo Dammo gli sgherri a posto di questo E mettiamo la lapide Adesso è un deck è scarsissimo Io lo vorrei provare Se vinciamo così Raga Allora Iniziamo con La lapide Si parte Eh madonna Quello parte con le cose pesanti No 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 Abbiamo fatto tanti danni alla torre Mettiamo doppia lapide Si parte Si parte Si parte Si parte Si parte Si parte Visto che io non sto in arena 7 come gli altri Perchè Perchè Io E' per questo che Sto in arena bassa come si può dire Funzione Chi ci fa il culo Oh 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 Alla torre centrale Puntiamo puntiamo la Noi facciamo toccare torre No 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 Si 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 Alla grande stiamo andando Raga Scommettete che La vivo questa Come un deck è proprio di me Merda Per non dire parolacce Madonna Se mi acchiappava Gli sgheri Devo mettere le lapide 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 Calma Oh mio dio Questo è fortissimo Ah Ti fermiamo tutto Doppia lapide Oh mio dio Quante cose ho messo Vuole ancora combattere questo E andiamo Fai il culo Vai 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 E l'abbiamo vinta Guardate quante cose Ma se volete vedere Se volete vedere il gioco che gioco Gas in Vegas Link in descrizione Dai questo deck è forte Cosa Dai riproviamo Allora Si parte con cose piccole Attenzione Attenzione Difese 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 No con il mini pecca Non mi piace No no Guarda quante cose Dai Dai ammazza 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 Il mini pecca No 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 Oh mio dio Tanto difficile Giocare Con quelli Che vabbè e poi uso pure mini becca no dai 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 no 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 61 di vita madonna non mi ha colpito la torre e ti fermo no vaffa vai si riparte si riparte si riparte si riparte no 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 si 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 la torre è andata no 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 sbagliata guardate ho creato una orda un'orda e questo video si concluderà qui mettete un pollicione in su e buuuu